L'osteopata non si occupa solo della salute degli adulti ma anche di quella dei bambini. In che modo? L'osteopata si occupa della salute dei bambini a 360 gradi, quindi dal loro sostegno alla salute, all'accudimento, alla prevenzione e al trattamento di alcune condizioni molto frequenti che ci sono nei bambini. Faccio degli esempi, uno dei primi motivi di consulto per l'osteopata pediatrico sono i dismorfismi cranici posizionali e le plagiocefali posizionali, ma vengono anche molti torcicolli, asimmetrie posturali infantili, piedi torti di grado lieve o piedi torti posizionali, disturbi gastrointestinali, disturbi respiratori, fino all'età un po' più avanzata, quella prescolare e scolare, dove vengono trattati otiti, disturbi respiratori frequenti e ricorrenti e all'età invece un po' più avanzata, dove vengono trattate scoliosi, dismorfismi degli arti inferiori, quindi tutta una serie di condizioni molto ampie che quindi trovano un'indicazione nell'osteopatia in moltissimi casi. È vero che l'osteopata può prendersi cura della salute del bambino ancora prima che questo nasca? Già dalla gravidanza si può capire se ci saranno poi delle indicazioni future per il trattamento e per visita osteopatica. Queste condizioni possono essere un parto cesareo o parti naturali che presentano alcune condizioni difficoltose, quindi parti operativi piuttosto che parti molto complessi o lunghi, manovre ostetriche un po' forzate, piuttosto che l'utilizzo della ventosa, parti gemellari, condizioni disfunzionali dell'utero, insomma tutte quelle situazioni che possono rendere disconfortevole e anomala la posizione del feto in pancia o la sua espulsione durante la nascita, durante il parto. Passiamo alla pratica. Che cosa fa concretamente un osteopata durante una visita? Le fasi della visita osteopatica sono essenzialmente cinque. Si fa un'ampia anamnesi dove si raccolgono tutti i dati del bambino, si cerca di capire quali sono le sue abitudini, che cosa fa, la sua condizione di salute, si assume farmaci, tutta una serie di notizie fondamentali che ci possono poi permettere di lavorare al meglio. Superiore dopo si fa un esame obiettivo, si fa una valutazione dello stato del bimbo, come si muove, quali sono le sue abitudini, quali sono le sue espressioni, come interagisce, quindi tutta una serie di valutazioni che ci fanno capire poi se quel bambino ha veramente bisogno di un trattamento osteopatico o ha piuttosto bisogno di un altro specialista o di un altro percorso clinico. Quindi si fa poi la valutazione vera e propria osteopatica, che è una valutazione esclusivamente manuale, che ha l'obiettivo di trovare nel corpo del bimbo tutte quelle disfunzioni e quindi quei tessuti che presentano tensioni, restrizioni di mobilità, alterazione e dolorabilità quando vengono toccati e poi fa tutta una serie di tecniche osteopatiche che cercano di ridurre queste zone disfunzionali, di normalizzare queste zone disfunzionali per permettere al bimbo di muoversi correttamente, di abbandonarsi nelle posizioni di agio che più preferisce e quindi di sostanzialmente avere delle funzioni più fisiologiche e più facili per la sua crescita.